Ciao amici bagli investor, è di un paio di giorni fa la notizia che Pat Gelsinger ha lasciato il ruolo di CEO di Intel dopo quasi 4 anni alla guida dell'azienda. Da questa notizia le azioni Intel hanno perso l'11%, come se non bastasse, perché da inizio anno il titolo è sceso di oltre il 50%. Insomma, il prezzo del titolo è agli stessi livelli degli anni 90 ormai. E in questo video cercheremo di capire come mai Gelsinger ha preso questa decisione improvvisa, cosa si prospetta adesso per Intel e se può essere un buon affare a questi prezzi. Prima di parlare di Gelsinger facciamo una panoramica di come è andata la sua gestione dal 2021 in Intel. Precisiamo una cosa, se Intel è messa male come ora, non è di certo colpa di Gelsinger ma della gestione degli anni precedenti dove Intel ha pensato troppo a gestire la situazione, a tagliare i costi, a rendere più efficiente l'azienda, a restituire valore agli azionisti con dividendi e buyback, ma trascurando molto la parte dell'innovazione e della crescita, quindi lasciando molto spazio alla concorrenza. AMD e Nvidia in primis, ma anche TSMC nella produzione di chip. Infatti alcuni clienti storici di Intel, come Apple ad esempio, hanno preferito progettarsi in proprio i chip dei loro dispositivi in collaborazione con TSMC. E Gelsinger è stato chiamato per salvare la situazione quando il vantaggio competitivo tecnologico di Intel ormai era bello che è andato da un pezzo. La strategia di Gelsinger è stata quella della ricerca di un turnaround totale dell'azienda, nel senso di voler riportare Intel alla leadership in tutti i suoi segmenti di business, nel design delle CPU per PC e datacenter, nelle GPU per PC e datacenter, nella divisione network ed age, cioè i chip per dispositivi IoT e le infrastrutture di rete, e ritornare alla leadership anche nella produzione di semiconduttori, e non solo, aprire nuove fab per produrre chip anche per altre aziende, anche per la concorrenza, idealmente. Insomma, essere la TSMC americana. Dopo quattro anni di gestione, però, le vendite di Intel, come potete vedere, hanno subito un declino importante. E tutto questo mentre c'è stato il boom dell'intelligenza artificiale e del lavoro da remoto. E mentre AMD, Nvidia, TSMC e tante altre aziende di semiconduttori hanno visto i migliori anni della loro vita, come cantava Renato Zero, Intel è andata nella direzione opposta, perdendo quote di mercato sia nel segmento PC che in quello datacenter. Nel datacenter è stato proprio spazzata via, perché non era minimamente competitiva. Mentre nel PC è ancora leader, anche se ha perso quote a favore di AMD. E tutti i miliardi di investimenti fatti nelle fabs, che hanno comportato un aumento incredibile del capex negli ultimi anni, non hanno però portato alcun ritorno. Questo segmento di business fattura ancora pochissimo e perde soldi perché non riesce ad arrivare alla scala di produzione necessaria per essere profittevole. Dal punto di vista tecnologico, Intel ha comunque fatto tanti progressi nell'era Gelsinger. I prodotti sono migliorati tantissimo e anche i processi produttivi. Ma la concorrenza nel frattempo ha continuato a lavorare sodo e innovare. E quindi se Intel faceva due passi in avanti, li facevano anche i concorrenti. O addirittura ne facevano tre o quattro, perché Intel doveva disperdere le risorse su diverse divisioni, mentre i concorrenti erano molto più focalizzati come modello di business. Quindi il risultato è stato che dopo quattro anni di Gelsinger, Intel, anche se migliorata sul piano tecnologico, ora perde soldi, non è più profittevole. Ha un free cash flow negativo da ormai anni e anche il dividendo è stato tagliato in modo importante. Quindi dopo quattro anni di sanguinosi investimenti, possiamo dire che Intel è migliorata sul piano dei prodotti e processi produttivi, ma non è cambiata la sostanza. Nel senso che il gap con i concorrenti è rimasto comunque molto elevato ed ora sono anche senza soldi, hanno un bel po' di debiti ed è un business che è anche molto più capital intensive rispetto a tre o quattro anni fa per via delle fabs, quindi molto più costoso da mandare avanti. E probabilmente Gelsinger non è andato in pensione come sostiene, ma è stato semplicemente mandato via dal board. Avete presente il grande piano di licenziamenti che aveva annunciato nell'ultimo trimestre? C'è finito anche lui dentro probabilmente. La storia del pensionamento chiaramente non regge. Infatti Gelsinger dice di essere andato in pensione, ma nell'ultima conference call, quindi parliamo di poche settimane fa, parlava come se dovesse restare alla guida di Intel per ancora chissà quanti anni e che il bello doveva ancora arrivare. Infatti aveva detto nell'ultima earnings call Il Q3 è stato un buon passo in avanti, ora dobbiamo concludere l'anno in bellezza e prepararci per il 2025. Siamo determinati a fare le cose per bene e non vedo l'ora di vedere i miglioramenti lungo il percorso. Quindi sembra che lui sarebbe rimasto volentieri, ma il board non era dello stesso avviso evidentemente. Potrebbe essere anche che ci sia stata una divergenza sulla visione del futuro dell'azienda tra il board e Gelsinger e che quindi Gelsinger sia stato mandato via, ma con il suo consenso, tra virgolette, e con tanto di buona uscita, quindi. Perché il piano del board sembra essere quello di voler dividere la divisione di chip design di Intel da quella della produzione di chip e probabilmente vendere quest'ultima divisione, vendere le fabs a qualcuno che sa come renderle profittevoli e usare quindi i proventi della vendita per rendere competitiva la divisione chip design, che a quel punto, senza produzione, diventerebbe fabless come quella di AMD e Nvidia. E questo modello di business, Capital Lite, si è rivelato molto vincente per i concorrenti. Anche perché il business della produzione richiede tantissimi investimenti in capex dato che c'è da recuperare il gap con TSMC e non è sostenibile per un'azienda senza soldi come Intel. Invece Gelsinger aveva detto fin dal primo giorno che lui puntava molto alla produzione di semiconduttori per il rilancio di Intel. Quindi potrebbe essere stato questo il motivo dell'allontanamento, questa divergenza, oppure, come detto, semplicemente il board, frustrato dai risultati finanziari della gestione Gelsinger, ha deciso di mandarlo via e cercare un altro CEO. E al momento Intel ha due CEO ad Interim ed avere due CEO vuol dire in pratica non avere CEO. Ne stanno cercando uno e non sarà per niente facile, anzi, sarà molto, molto dura, secondo me, trovare una persona che adesso può realizzare questo turnaround. Perché Gelsinger era il candidato ideale per Intel, a mio avviso, perché era un ingegnere e ha lavorato per Intel dalla fine degli anni 70 è stato uno dei protagonisti dell'innovazione di Intel negli anni 80, conosceva davvero bene i processori, è stato uno dei vicepresidenti più giovani della storia di Intel e della storia in generale, direi, perché lo è diventato a soli 32 anni, ha avuto anche un'esperienza positiva come CEO di VMware, era una persona che serviva ad Intel e comunque non ce l'ha fatta. Ora, chi arriverà dopo di lui dovrà portare avanti questo turnaround, ma senza le risorse che aveva Gelsinger quattro anni fa, perché Gelsinger, quando è entrato, ha trovato un'azienda che era molto profittevole, piena di liquidità, ed era appena iniziato il boom dell'AI. Adesso, chi arriverà si ritroverà un'azienda che perde soldi, con poca liquidità, con un bel po' di debiti, molto più capital intensive, e con un gap ancora enorme da recuperare rispetto ai concorrenti. E in più, adesso, tantissime aziende potenziali clienti di Intel si stanno facendo i chip in casa, facendoseli realizzare da TSMC, come ad esempio Amazon, Google e Apple. Quindi, il mercato si restringe ancora di più. E se la domanda è, vale la pena comprare Intel adesso dopo questo grande crollo del prezzo? Secondo me siamo nel campo della speculazione e non dell'investimento, perché, come è messa adesso Intel a livello di fondamentali e posizione competitiva sul mercato, non esiste un prezzo o un multiplo abbastanza basso, secondo me. Potrebbe anche scendere molto di più, però non è detto che non si possano fare soldi, e per questo dico che siamo nel campo della speculazione, perché di certo Stati Uniti ed Europa hanno interesse ad avere un'azienda occidentale che produca chip in occidente e non lasciare tutto in mano a TSMC a Taiwan. E quindi potrebbe esserci un rimbalzo del prezzo nel momento in cui arrivasse la notizia della vendita della divisione delle fabs. Chiaramente a qualche azienda occidentale, possibilmente americana. Con il segno di poi, penso che Gelsinger abbia sbagliato a voler risollevare tutta Intel, tutte le divisioni. Non c'erano le risorse e il tempo sufficienti per farlo, il gap con la concorrenza era troppo elevato. Quello che forse avrebbe dovuto fare è vendere delle divisioni e usare i proventi per rilanciare una o due segmenti di business. E questo è quello che credo sia nelle idee del board, rilanciare la divisione di chip design e vendere il resto. E la storia di Gelsinger credo che abbia confermato ancora una volta una vecchia massima di Warren Buffett. Quando un management con una reputazione brillante incontra un'azienda con una scarsa reputazione a livello di fondamentali, è la reputazione dell'azienda a rimanere intatta. Gelsinger era un ottimo manager probabilmente, ma Intel era messa troppo male per un turnaround. Comunque, se siete in Intel e state cercando di capire se rimanere o vendere, potrebbe essere utile confrontarvi con altri azionisti ed ex azionisti di Intel per capire quali sono le loro diverse motivazioni che le hanno portate a vendere o holdare. E quindi vi potrebbe essere utile la sezione Intel del circolo dei value investor, la nostra community su Discord, a cui potete partecipare diventando sostenitori del canale tramite Patreon. Link in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate di Intel dopo l'addio di Gelsinger. Un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.